Bella a tutti Aspetta cosa che dovevo dire Aspettando un attimo Non so se ho le cuffie accese Ok ce li ho accese Bella a tutti Sono Obscuro Come il mio nuovo nome Da premium Jake 9991 9991 E scusate se non abbiamo fatto Video su questo canale Per diversi mesi 5 se non sbaglio Ma adesso ho intenzione di riprendere In quanto Braising Non so che fine abbia fatto Eccetera Non ci siamo più sentiti Questa nuova serie che ho intenzione di incominciare Oltre ai tutorial E forse qualche Anger Games Che però non assicura Consisterà in questa mappa Che si chiama Sinedra Island Se non sbaglio Aspetta un attimo Ok Ok Ah porco Consisterà in questa mappa Che si chiama Sinedra Island Scusate la mia voce Ma sono leggermente affreddato A maggio Sì lo so E E vabbè Ci sono vari obiettivi Iniziamo A vedere Mappa E X Sì Vediamo Messaggio da Sì la mappa È fatta da un italiano Venuto Sinedra Sinedra Nafrago Il luogo in cui ti trovi La spiaggia Delle stelle Sulla spiaggia dovrebbe esserci Vesti di navi Cominci a cercare da lì Sinedra è un complesso di I D Cosa che era Sinedra Sinedra è un complesso di isole Che contiene moltissimi segreti Se cerchi bene Potrai trovare le case Del boscaiolo No Con Le case del boscaiolo Ma io ho fatto parte del tema Sì ok Le case del boscaiolo Sempre piene di oggetti Utilissimi per i templimus Piene di magia Ti dico solo Solo queste Questo per non facilitarti le cose Ma Sinedra contiene più segreti Di minecraft Stesso E' la madonna Buona permanenza sull'isola Vabbè Cirque down Cirque Dow Anno 1678 E qua intanto abbiamo la nota Che però è inutile Allora Allora Direi che Ho detto di cercare sull'isola Che quelle lì mi sembrano Questa qua Mettiamo E questa qua mi sembra l'isola I resti direi Sì Una spada Mezzo utilizzata Fantastica Fishing road Una barca E una lana E della lana Direi che Questo qua non mi serve La barca Ti diancela Qua Poi equipaggiamo la spada Beh Allora Allora la Direi che ci sono Nelle rovine Di un ponte Però Prima Di andare di là Voglio Un po' esplorare Qui intorno Non so se Non so se bisogna fare Un campo base Cercare qualcosa Oppure su una mappa Più esplorativa Secondo me Potrebbe essere un mistero Fra le due Oggi Che cazzo c'è Potrebbe essere un mistero Fra le due Però Non so Allora lì c'è un'altra barca Vabbè Piliamo Che non so mai O se è un mistero Tra le due E' fantastico Si sta già facendo un ottico Ma il cazzo Ma porca Puttana Intanto sembro un paraplegico Come si sta muovendo Ma rispetto Peaceful Ecco Normal Mi chiamo il normal E c'è una voce di merda In questo periodo Fantastico Allora Vediamo un po' Jump it Jump Allora Lì c'è Una foresta Che si deve Figa Nando si sta facendo Un ottico Un villaggio Se non è un villaggio Sponato Da Carino O chissà se dentro C'è qualcosa O forse qualcosa Se è Jesse Una cesta Cos'è Una leggenda Magnifica Creep Boh Cazzo sono sta vada Le pecore Ah Ha dato Cazzo Boh Cazzo Carota Cibo Ok Oh Io Caro Che lag Io intanto Da fuoco Cos'era Un'altra cibo Ah Abbiamo C'è un invento Di Twix No Adesso leggo Anche i libri Come intanto Pregiamoci il pane Leggo Magnifica Che magnifica biblioteca Bellissima In questi paesi Mi hanno Mi Ha Ha Boh Permesso Mi hanno Permesso Di fare Alcune Ricerche Devo Devo dire Che ci sono Molte cose Interessanti Adesso Circo Do Anno 1681 E questo Qua invece Adel Di che anno Era 1678 Perciò Sono passati Già tre anni Una leggenda Una leggenda Dice che se Agirano per l'isola Un toleco E un Oigavle Zopul Tradotto Significa Un oceot E un lupo Selvagio Alcuni credono Alcuni Credono E dicono Che li hanno visti Altri non ci credono Una cosa certa Che gli trovò Chi li trova Sa molto Fortunato Non ci sono Oceot E lupi A sinistra Solo maiali Oh Bello Bello E sto qua Anquala Prima Come cazzo Ah Fambai Oh E questo Cazzo Un totem Oh Che teore Che sei Dimmi se c'è Hai qualcosa Io so Che adesso Mi trova Nel cuo Ah Piccoli bug Inutile Sta Sta Casa Decisamente No Non dirai che devo uscire Di qua Poi Andiamo qua Ciao bellissimi Ciao carissimi No Grazie Via Fuga 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 Aspettate un attimo Che abbassa la sensibilità Va decisamente meglio Qua non c'è No Ah bello Un creeper E io non c'è neanche Optifine installato Bellissimo Vai così Yamaya Ah vabbè Ci sono stati Allora qua c'è del cibo Carote E grano Beh direi che questo qua Sarà il nuovo Uh Cazzo La roba Molte Dopo Vado a vederlo Direi che questo qua Sarà diciamo Il nostro campo base Perciò Prima riusciamo a trovare Broccopi Un'altra Ok ok no no azzallo ti disinterlo oh altra cesta oh smelta dov'è lo disistro? no non è qui qua c'è una cesta una mappa dov'è guardati là ok oh cazzo mi sono pure finito la spada non scherzavo oh quando è caduto la giunta senza i prossimi quando i bruciano perché c'è andato solo ok dobbiamo cercare di tenerne in vita il possibile eh è fantastico ahhh oh dio vedete si però io non devo andare dai dai il fuoco il fuoco il fuoco cazzo no adesso anche il fuoco ci sono ecco ecco due perchè il critter non esplorano non è una felicità ci sono giusto no non posso neanche tapparlo come il bruco che cazzo vediamo qua sto ancora generando la mappa che cazzo che cazzo in chi se th ci si Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.